Tutto sommato è stata una buona settimana per me, alla fine un quinto posto in classifica con questi corritori a questo livello penso che posso ritenermi soddisfatto. Sono contento della mia condizione, del mio inizio di stagione, quindi continuiamo su questa linea e diciamo che tra poco arriveranno anche i grandi obiettivi e siamo sulla buona strada. Adesso c'è un'altra grande corsa a tappe che è la Vuelta a Catalunia, sicuramente si può far bene anche lì e dopodiché ci sarà il periodo di altura prima dei più grandi appuntamenti come Freccia e Liege e poi il Giro d'Italia che rimane sempre il nostro primo punto di riferimento della stagione.